Invece di restare a casa, la sospensione a scuola, adottata per motivi disciplinari, diventa un'azione di recupero sociale. Così anche ad Avellino, alcuni studenti di un istituto superiore, puniti per atti di intemperanza, su decisione dei dirigenti scolastici e con l'avalo dei genitori, saranno impegnati dalla Caritas con il sostegno di un tutor nel servizio di assistenza al dormitorio e alla mensa dei poveri. In questo caso, a salire simbolicamente in cattedra sono le persone indigenti, capaci, con le loro storie di disagio e diversa umanità, di impartire una lezione di vita agli alunni disobbenienti. Abbiamo ricevuto delle chiamate, soprattutto per far sì che questi giovani che in occasione di momenti di conflittualità all'interno degli istituti potessero svolgere delle azioni di riparazione, soprattutto di esperienze di volontariato da noi che sicuramente li aiuteranno a maturare, soprattutto a livello personale, comportamenti un po' aggressivi. Che tipo di ruoli riservate a questi ragazzi? Certamente le istrutture che noi abbiamo, accompagnati da operatori, che li possono soprattutto aiutare anche a rivedere il loro comportamento e soprattutto fargli fare un'esperienza all'interno di un ambiente conviviale, familiare e si possono confrontare con persone che sanno peggio di loro. Carlo Mele si augura invece una punizione semplare da parte delle istituzioni per i ragazzi che avrebbero appeso il 24enne studente cinese del Conservatorio Cimarosa. Sono molto preoccupato perché si sta paventando un clima culturale pessimo, pessimo. Se si arriva anche a prendersela con chi è malato o con chi si presume che sia malato, allora abbiamo perso il senno perché non c'è più rispetto per niente. Allora su questa cosa io credo che le istituzioni devono essere inflessibili. La dignità umana va rispettata in tutte le sue differenze, in tutte le sue povertà. Non è possibile vivere in un clima soprattutto di terrore, di razzismo, di aggressività che non esprime altro che cattiveria. Non c'è una proposta positiva, non c'è. E allora su queste cose bisogna essere duri.